Domenica 3 aprile 2005, festa della Divina Misericordia, istituita dal Papa nel 1992 e ricadente nella prima domenica dopo la Santa Pasqua. Apriamo l'osservatore romano e troviamo la notizia che già la sera prima avevamo appreso. Il Signore ha chiamato a sé il Santo Padre Giovanni Paolo II. Si chiudeva così la vicenda terrena di questo gigante nella storia della Chiesa e lo stesso osservatore romano lo saluta con queste parole. Ci hai lasciato Padre Santo, ti sei consumato per noi, in quest'ora per te gloriosa, per noi dolente, ci sentiamo abbandonati, ma tu prendici per mano e guidaci con quella tua mano che in questi mesi si è fatta in te anche parola. Grazie Padre Santo. Parole che rievocano gli ultimi anni di vita sofferti e dolorosi di Giovanni Paolo II. In questa conversazione vogliamo narrare in sintesi la vicenda biografica di questo uomo e non potremmo andare oltre, dato che ripercorrere il Magistero e approfondire tutti gli aspetti della sua vita richiederebbero ben altro che questi pochi minuti. una vita che è stata caratterizzata da eventi drammatici, tanto dal punto di vista storico che personale, eventi vissuti in prima persona e che lo toccarono molto direttamente. Certamente anche gli altri papi del XX secolo sono stati testimoni e anche coinvolti nelle vicende drammatiche del secolo scorso, ma nessuno ha vissuto drammi personali e storici così direttamente e personalmente come Karol Józef Wojtyla, questo il suo nome all'anagrafe civile. Karol nacque a Wadovica, nel sud della Polonia, che fino a due anni prima era parte dell'impero austro-ungarico il 18 maggio 1920. Il padre, Karol Senior, un uomo di grande fede e pietà, era un ufficiale amministrativo del neocostituito esercito polacco, l'esercito che tre mesi dopo fermerà miracolosamente l'Armata Rossa sulla Vistola. La madre, Emilia, di malferma salute, morì nel 1929. Poco dopo la seguì il fratello maggiore di Karol, Edmund, medico. Una sorella era morte nel 1914, poco dopo la nascita. Quindi, dopo questa serie di lutti, padre e figlio si ritrovarono soli. Entrambi si trasferirono nel 1938, nella vicina Cracovia, dove il giovane Karol potrà frequentare l'università Jagiellonitski, o Jagiellonita, e sono gli anni in cui può dedicarsi ai suoi interessi di letteratura e teatro, già coltivati da giovanissimo nella città natale. Questo è un momento di serenità che però dura poco, dato che il 1 settembre 1939, dando seguito al patto Molotov-Ribbentrop, la Polonia viene contemporaneamente invasa dalle truppe dell'Unione Sovietica Comunista e della Germania Nazionalsocialista. Iniziò così un periodo drammatico e travagliato, durante il quale il giovane Karol finì per svolgere un pesante lavoro presso la cava di pietre di un'impresa chimica e, come ha detto una produzione che comunque aveva un rilievo di natura militare, poteva almeno rimanere a Cracovia. Riuscì, nonostante tutto, e nonostante la morte dell'amato padre nel 1941, a proseguire l'attività di studio ed animare attività culturali di opposizione, dove teatro e letteratura servivano a mantenere viva l'identità nazionale polacca a lui molto cara. Fuoron anche i momenti in cui maturò la sua vocazione a sacerdozio, tanto che nel 1942 entrò nel seminario clandestino organizzato dall'allora arcivesco di Cracovia, Monsignor Sapieha. Sopravvissuto nel 1944 a un grave incidente, fu investito da un autocarro, finalmente terminata la guerra, Karol fu ordinato sacerdote il 1 novembre 1946 e poteva andare a Roma per completare gli studi teologici, città che lo ospitò fino al 1948. Tornato in patria, svolse il suo ministero dividendosi tra le attività pastorali, con una particolare attenzione per quelle rivolte ai giovani e l'insegnamento. Ma il 1948 fu l'anno in cui calò sulla Polonia l'ombra oscura dell'oppressione comunista. Il sacerdote Karol riuscì a stare vicino ai giovani, anche grazie a quello spirito sportivo che non perderà nemmeno da Papa fino a quando le forze glielo consentirono, e nella misura in cui fu possibile, orientò la sua attività di pastore e di educatore a mantenere viva la fede, l'amor di patria e un atteggiamento critico verso il regime e l'ideologia che lo sosteneva. Le sue doti non passarono inosservate, certamente non alla polizia politica che lo sorvegliava da vicino, ma nemmeno ai suoi superiori nella chiesa polacca. La sua carriera ecclesiastica fu rapida. Divenuto vescovo ausiliare di Cracovia nel 1958, ne assunse la titolarità come arcivescovo sei anni dopo, nominato da San Paolo VI, lo stesso che lo nominerà cardinale solo tre anni dopo. Sono anni in cui, nonostante gli impegni pastorali, non vennero meno gli interessi filosofici, che troveranno poi compimento nella pubblicazione nel 1960 del saggio Amore e responsabilità, dove si delineava già quella parte rilevantissima del suo pensiero, che verrà definita come teologia del corpo. E non vengono nemmeno gli interessi letterari e teatrali. La sua più famosa opera teatrale, La bottega dell'Orefice, è sempre del 1960. Tra il 1962 e il 1965, il vescovo Voitiva partecipa attivamente ai lavori del Concilio Vaticano II, dando un importante contributo alla Costituzione pastorale Gaudium et Spes e alla dichiarazione dei dignitatis umane, sulla base dell'antropologia personalista che caratterizza il suo pensiero. Come vescovo e poi come cardinale continuò la sua opposizione al regime comunista, incentrata sulla dimensione della libertà religiosa, libertà che ovviamente il regime cercava di limitare e di ostacolare. Sono anni durante i quali riuscì comunque a viaggiare molto per partecipare ai sinodi episcopali, ma anche per animare le colonie polacche all'estero e coltivare i suoi interessi teologici e di studio. Si fece quindi conoscere nel mondo e nella Chiesa, costruendo una più che meritata fama di pastore e di elaboratore di acuto pensiero teologico e filosofico. Nell'agosto del 1978 ritroviamo il cardinale Voitiva a Roma per partecipare al conclave apertosi alla morte di San Paolo VI, ma vi dovette ritornare nell'ottobre dello stesso anno al successivo conclave dopo la scomparsa di Giovanni Paolo I, il cui pontificato durò come sappiamo solo 33 giorni. Da quel conclave egli uscì papa dopo otto votazioni e alle 18.45 del 16 ottobre 1978 il cardinale protodiacono Pericle Felici ne annunciò le elezioni. Primo papa non italiano dopo 455 anni assunse il nome di Giovanni Paolo II e presentandosi la folla come il nuovo vescovo chiamato da un paese lontano pronunciò quella frase con la quale conquistò immediatamente simpatia popolare «Se mi sbaglio mi corrigerete». Il ministero Petrino formalmente si aprì il successivo 22 ottobre e nell'omelia della prima messa pontificale pronunciò le altrettanto famose parole che sono andate a costituire il suggello del suo pontificato. Disse «Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa è dentro un gioco, solo lui lo sa». Lo stemma del suo pontificato, una semplice croce a significare la centralità del mistero della redenzione, vede sotto di essa la M maiuscola a significare la presenza di Maria sotto la croce e il suo ruolo di corredentrice. Non possiamo in questa sede certamente illustrare i documenti di Magistero e le iniziative pastorali di Giovanni Paolo II, tanto è vasta la sua opera in oltre 26 anni di pontificato. Ne facciamo solo un cenno per sommi capi nell'ambito della sua vicenda biografica. Suo Magistero dottrinale, come possiamo ricavarlo dalle statistiche di fonte vaticana, si dipana in ben 14 encicliche e 15 esaltazioni apostoliche, che seguirono i sinodi episcopali che aveva confocato lui stesso. Un corpus dottrinale che pone fondamenti importanti per quanto riguarda la fede, la vita umana, la dottrina sociale e l'azione pastorale della Chiesa. Ma certamente l'atto più importante fu la promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, monumentale opera apposta a fondamento sicuro della nuova evangelizzazione e grande dono per confermare nella fede e nella buona dottrina tutti i fedeli. Dopo un lungo lavoro di preparazione di studio, venne approvato nella sua versione iniziale l'11 ottobre 1992 e in quella definitiva di 15 agosto 1997. Per capire l'importanza, Giova ricordare che il precedente Catechismo ufficiale, o meglio universale, della Chiesa Cattolica, il cosiddetto Catechismo Trentino in quanto frutto di quel concilio, risale al 1566. Per celebrare il 1950esimo anniversario della morte e risurrezione di Nostro Signore, il Santo Padre indisse nel 1983-1984 un anno Santo, nel quale inserì il Giubileo dei Giovani. Un primo appuntamento che vide nella domenica prima di Pasqua una folla di oltre 300.000 giovani a riempire Piazza San Pietro. Un appuntamento da cui scaturirono le giornate mondiali della gioventù, la prima già celebrata l'anno successivo, per poi susseguirsi a cadenza biennale nelle diverse parti del mondo. San Giovanni Paolo II presidette la sua ultima nel 2002 in Canada, a Toronto. Preceduto dalla lettera apostolica terzio millennio addiveniente, solenne e partecipato sarà poi il Giubileo straordinario indetto dal Papa per l'anno 2000, a segnare l'inizio del terzo millennio dalla nascita di Cristo, e che, tra i molteplici eventi, fu occasione a Roma della celebrazione della quattordicesima giornata mondiale della gioventù, con una partecipazione enorme da tutto il mondo. Per quanto riguarda i rapporti con le altre religioni, certamente ci fu, da parte di San Giovanni Paolo II, grande attenzione verso l'ebraismo, i nostri fratelli maggiori, come ebbe a definirlo. Ma l'episodio più ricordato fu la giornata d'incontro tra le grandi religioni, indetta ad Assisi nel 1986. La non leggersi però con lo spirito del relativismo religioso, ma come momento di ricerca e concordia sui temi della pace, frutto in prima istanza della conversione del cuore e della preghiera propria e dell'atteggiamento religioso. Certamente, o ai nessun Papa, possiamo dire, abbia viaggiato quanto San Giovanni Paolo II, testimonianza della sua concezione di un apostolato universale anche presso popoli lontani dalla fede cristiana. A suo carico si annoverano oltre 170 viaggi apostolici, 104 fuori dall'Italia, in 129 paesi del mondo, la più parte dei quali mai visitati prima d'allora da un pontefice. Memorabili furono le prime tre visite nella sua Polonia, ancora sotto il tattellone del totalitarismo comunista, nel 1979, 1983 e 1987, dando così appoggio e stimolo alla posizione animata dal sindacato Slidarnas. Un altro risultato, certamente difficile da eguagliare, fu il numero delle canonizzazioni che ebbero luogo sotto il suo pontificato. Le statistiche ne registrano ben 482, tra le quali possiamo ricordare Massimiliano Colbe, Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein al secolo, Faustina Kowalska, Pio da Petralcina, José Maria e Scrivà, Gianna Beretta Molla, per citare solo i più noti. Tornando agli aspetti propriamente biografici, l'episodio più drammatico della vita del nuovo pontefice fu, a due anni e mezzo dall'elezione, l'attentato che subì in Piazza San Pietro il 13 maggio 1981, anniversario della prima apparizione della Madonna Fatima. Autore dell'attentato fu l'assassino di professione Aliakha, di nazionalità turca e affiliato a un'organizzazione nazionalista chiamata Lupi Grigi, che sparò a due colpi di pistola a distanza da avvicinata, ferendo gravemente il Papa alla donna. Nonostante le condizioni critiche, il Papa sopravvisse e il fallimento miracoloso dell'attentato fu dallo stesso pontefice attribuito alla Madonna di Fatima. Quanto ai mandanti del gesto e la giustizia italiana che si occupò del caso, non giunse mai a una conclusione definitiva, per quanto, anche in base ai documenti emersi dopo il crollo dell'Unione Sovietica, l'ipotesi di un'operazione condotta dai servizi di Bulgaria e dell'Unione Sovietica stessa, intesa a colpire un personaggio troppo scomodo per il comunismo internazionale e proveniente dalla Polonia ancora schierata con quel blocco, rimane pur sempre un'ipotesi molto plausibile. Giovanni Paolo II divenne Papa a 58 anni, un'età relativamente giovane per un pontefice. Il suo stile di vita attiva, le sue brevi vacanze e escursioni montane tennero viva l'attenzione mediatica a lungo, così come l'energia con cui affrontava impegni e viaggi pastorali, diedero nei primi anni di pontificato l'immagine di un uomo vigoroso. Questo vigore centramente contribuì alla ripresa dopo le gravi ferite dell'attentato. Negli anni 90, però, egli fu afflitto da una serie di problemi di salute. Via via, per il Papa, divenne progressivamente più difficile muoversi, tanto che dal 2002 fu costretto a utilizzare ausili per sostenersi e anche le facoltà di parola cominciarono a declinare. Furono questi gli anni in cui, con grande fatica, volle comunque tenere fede agli impegni pastorali, ma la salute lo stava progressivamente abbandonando. Drammatiche furono le ultime apparizioni in pubblico in occasione della Santa Pasqua del 2005, quando riuscì a benedire i fedeli con un eroico sforzo fisico, ma non fu più in grado di pronunciare parole. Passarono pochi giorni e ulteriori complicazioni portarono Giovanni Paolo II a spegnersi. Erano le 21.37 di sabato 2 aprile 2005, vigilia della Festa della Divina Misericordia. Nel corso della stessa festa, il 2 maggio 2011, il successore Benedetto XVI celebrerà la beatificazione, mentre Francesco lo proclamerà santo ancora nel giorno della Divina Misericordia, il 27 aprile 2014. San Giovanni Paolo II prega per noi. Grazie.